Mi chiamo Nite Bakunva Saroskar, sono infermiere titolare nel centro di saluti di Gassanda. Qui arrivano molte persone con diversi problemi, ma i nostri rapporti da gennaio ad agosto ci dicono che in media il 78% dei casi riguarda parassiti allo stomaco, soprattutto perché non c'è acqua potabile. Ma sono numerosi quelli che non arrivano qui perché abitano troppo lontano. Arrivati qui, li riceviamo e facciamo loro degli esami. A quelli che soffrono di parassiti allo stomaco, diamo i farmaci e poi rientrano a casa. Ma tornano presto perché continuano a bere acqua sporca. L'acqua è fonte di vita. Ci permette di avere una buona vita e buona salute. Qui manca, per questo ogni azione in questa direzione è importantissima. Con una fonte di acqua pulita e potabile vicino casa, i disturbi causati da parassiti allo stomaco e malattie simili diminuiranno. E miglioreranno le condizioni igienico-sanitarie e la vita di bambini e adulti. E miglioreranno le condizioni igienico-sanitarie e le condizioni igienico-sanitarie e le condizioni igienico-sanitarie. Grazie. 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 Grazie.